cos'è vita? vita? vita per me è fare qualunque cosa la vita per me è da quando uno apri gli occhi e fa tutto ciò che gli piace Jamile dimmi innanzitutto per favore che cosa sei tu di preciso perché voglio chiarire subito vorreste chiarire subito io mi chiamerei una transformista 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 un transformista quindi della parola di trasformazione che vuol dire che io sono in realtà un ragazzo che di giorno si alza al mattino prendi l'autobus prende il pulmo la prima mattina e va a fare un lavoro un mestiere come il mio umile come una cameriera in un albergo e arrivando dopo una settimana di tanto lavoro tanto alti bassi arrivo a un venerdì o un sabato dai quale mi transforma è quella che sono io Jamile Loreto perfetto volevo iniziare con questo chiarimento perché è facile fare confusione e io in primis volevo essere certo di sapere come come chiamarti perché ci sono tante sfaccettature tante sfumature su questo mondo io in questo momento sono Jamile Loreto chiarissimo ma dimmi per favore da dove vieni in realtà dove sei nata allora mi origine sono semplice sono originaria dell'amazzonia del perù sono nata proprio in mezzo alla foresta amazzonica è una città che si chiama Iquitos è la regione più grande del perù la regione si chiama Loreto dai quali viene il mio cognome che sarebbe Jamile Loreto sono nata tanti anni fa avuto una sono cresciuta diciamo come una ragazzina tranquilla è un è un villaggio una città aperta senza problemi neanche di discriminazione direi sì e che anno era che si nata che sono nata potrei dire questo potrei passare beh sì sono nata il 1976 prima degli 80 ok che tipo di regime c'era in perù all'epoca il regime fin quando ero piccola mi ricordo che c'era belasco al barato ha fatto un golpe un golpista quello che so sull'istoria anche per studi in scuola però sono stati per pochi anni poi ho presso un governo democratico dal quale si chiamava il quale si chiamava il presidente grande presidente bella undeterri che ancora mi ricordo che ha fatto delle opere per l'ingrandimento del mio paese quindi ho cresciuta e un cambiamento di un perù che veniva un po' militarizzato di belasco poi cambiato la democrazia con il nostro presidente di quel tempo bella undeterri parliamo degli anni 80 ok perciò tutto sommato a livello politico era diciamo un periodo tranquillo beh nella mia infanzia mi ricordo che io ho avuto un'infanzia tranquilla provengo di una famiglia non bassa né alta una famiglia di classe media nel mio paese mio padre era un carrozziere aveva una piccola carrozzeria insieme a un suo socio a quale avevano queste due famiglie che andava avanti con i figli sono cresciuta in questa famiglia diciamo è un paese che stava crescendo e non avevo queste sì certamente avevamo molta povertà parlo di quello che io vedevo al mio intorno però in casa mia potrei dire che non avrei sofferto un po' di questo ho avuto la fortuna secondo me per avere un padre un po' rigido un po' anche libertino in suo modo però alla fine non ci mancava non si faceva mancare nulla a casa questo sì mi ricordo benissimo e avevi entrambi i genitori? sì sono cresciuta con entrambi i genitori ancora oggi a oggi direi mio padre ancora vivo a cura di mio fratello siamo i tre fratelli il maggiore otto anni più di me la seconda quattro di me io lui sarebbe l'ultima e quindi sì ho avuto un'infanzia tranquilla direi lieta di essere cresciuta senza dei problemi senza come ho sentito altre storie di altre amiche ragazze marginate fin da piccole quindi io non ho avuto questo perché sono cresciuta è una famiglia dai quali hanno saputo anche accogliermi un po' però sempre con il rispetto e l'educazione e questo per me era molto importante anche per crescere anche per crescere e anche tua madre lavorava? no mia madre è stata una casalinga però è stata una casalinga che si è arrangiato molto mi ricordo adolescente erano anni 90 avevamo un regime come di Fujimori non so se voi sapete l'istoria del presidente alberto Fujimori che ha fatto un po' di cose positive anche molte negative il mio paese soprattutto in corruzione soprattutto in una specie di regime che lui ha fatto ha creato dai quali negli anni 90 i soldi a tutti i perubiani da quei tempi che si ricordano erano pochi c'era il terrorismo che ha praticamente ucciso tantissime persone sia a Lima sia in la montagna non diciamo dove proveniva Irla nell'Amazzonia perché sono cresciuta sia a Lima sia in la montagna direi che Fujimori ha fatto delle sue in quel tempo sto parlando di mia madre che mia madre ha creato un piccolo negozio dentro casa ai quali faceva una specie di oggi chiamiamole una fonte di soda vendeva dei frullati di frutta esotica del mio posto un po' di papaya banane un po' di tutto e quindi faceva questa cosa al suo piacere lo faceva con tanta voglia di alzarsi presto e così io facevo le scuole privata sempre non ho fatto una scuola pubblica perché in mio paese andare in una scuola pubblica non è per il fatto dell'educazione che era bassa in quel tempo noi andando in una scuola privata ero sempre all'avanguardia delle ultime cose cioè io mi ricordo adolescente avevo 14 15 anni già avevamo e nella mia scuola un centro di corso di computer con DOS quello bassico mi ricordo stiamo parlando degli anni 90 90 91 quindi mi vengono in mente queste cose di avere una madre che ha lavorato a casa per darci un po' di più a noi quello che aveva anche mio padre quindi ti ritieni fortunata di aver avuto questa famiglia? molto fortunata sì perché come dicevo sono cresciuta è una famiglia con sui alti e bassi mio padre era una persona al di là del lavoro che veramente faceva un po' pesante essere un carrozziere e avere anche dietro alle sue spalle mi ricordo dei ragazzi che lavoravano con lui che aspettavano il weekend per avere la paga e lui non ha mai mancato il pagamento tutti i suoi dipendenti di quei tempi e anche che lui ha avuto un po' di mancanza con me no crescere a me ha preferito ha dato più preferenza direi era più legato al suo primo al suo primo genito mio fratello il maggiore e io mia sorella eravamo diciamo due cresciuti insomma è un modo però sempre con la tutela della mamma abbiamo saputo anche sfruttare tutto ciò che ci hanno dato soprattutto la cosa importante un paese come venire dal sud america l'educazione è un lusso non un diritto qua è un diritto io venire in europa per esempio io da bambina avevo l'enciclopedia che mio padre ci comprava tutti tre a noi tre e io sognava con questa enciclopedia guardando i posti guardando le città e dicevo io stare in questo posto mi piacerebbe stare in quell'altro guardavo la fotografia e studiavo un po' di fisica mi piaceva la storia leggere ascoltarla cioè stare lì mia sorella che che leggeva io mi sedeva a fianco e ascoltavo tutto ciò dei racconti no di un paese o di un'istoria e quindi sono cresciuta in questo modo di amare l'arte perché anche quello è una parte mia di evoluzionare dentro di quel fattore un po' oggi difficile come l'arte e entrare a far parte di un gruppo anche di persone che fanno il spettacolo su in giro che così ci siamo conosciuti a me piaceva un po' la la pittura le acquarelle il disegno a matite e tante altre cose che che avrei voluto anch'io è una è un'età diciamo giusta nella nostra adolescenza diffunderla ma non sono riuscita per come sappiamo molti che le scassi i soldi che ci sono e ti devi un po' arrangiare no adolescente già io a 17 anni non ero a casa ero nella grande città vivere da sola e lavorare sono stata aiutata dal fratello maggior di mia madre e anche occhiata cioè voglio dire sono stata sempre curata in tutti i sensi e cresciuta e studiato graffing design studiato un po' di marketing un po' di tutto dai quale mi ha con una piccola un piccolo cartone mi ha aiutato a entrare in una multinazionale dove sono entrato a lavorare per bel otto nove anni quasi poi finché un giorno ho deciso di far mio percorso in venire in europa in continuare fra virgoletta continuare a fare degli studi del quale non sono mai riuscita per motivi vari anche perché da sola non puoi fare tutto sono piano piano certe cose una cosa un'altra e così voglio chiudere un paio di punti con te perché mi hai accendato un sacco di cose innanzitutto quando mi hai detto prima che il tuo padre faceva in certo senso le preferenze ti ha pesato questo? molto molto perché essere il terzo e l'ultimo a volte è un privilegio per molti perché essendo il più piccolo anche se tu apri un libro una bibbia e leggi le storie cioè da un Gio Giuseppe che diventò re in Egitto giusto anche parlando di tante storie sempre il figlio ultimo è quello privilegiato quello più cocolato però nel mio caso ero un po' lasciato a fianco in tutto senso mi ricordo anche quando finivo la scuola secondaria che si chiama la media e quale la presenza importante che ha avuto era da una sia una carassia mia e anche da mia madre mio padre non si è mai presentato no perché quando l'avevo chiesto di seguire i miei studi privati così mi ha detto sei grande potresti lavorare e l'ho dimostrato perché ho lavorato avevo quattordici anni lavoravo nella farmacia della sia a metà metà ora al mattino e alla sera 4 4 mentre che andavo a scuola facevo sei ore sette ore di scuola e quando tornavo andavo a finire dalla sia nella sua farmacia era un'operatrice che stavo lì al banco gli serve un tacchipirina qualcosa per il mal di testa qualcosa per la tosse io piano piano cominciavo a capire anche su questo imparando sempre di una chimica farmaceutica ma immagino che comunque non era la norma lavorare a quattordici anni no però il mio paese lo fanno ragazzi che ti parlo di persone che non hanno avuto la mia fortuna no io ti sto parlando di un altro circolo diciamo io appartenevo a quel circolo diciamo di persone di classe media dai quali uno non va lì a raccontare le loro mancanze no però ero circondata in mezzo a queste persone altre persone certamente non si potevano permettere parlo di persone povera povera proprio che non riuscivano neanche al pane quotidiano diciamo tutto qua la tua storia a dir poco è interessante da un lato avevi delle fortune dall'altro lato delle cose diciamo meno piacevoli e come hai fatto a farti assumere a quattordici anni se non era legale no beh era un ci sto parlando di un negozio della sia quindi il mio contratto era la mia presenza lei mi ha detto guarda ti pago io gli studi quello che ti manca perché io dovevo pagare mensile erano in quei tempi era tantissimi soldi erano parlavamo di 260 270 soles che era tanto c'è un quasi la metà di un stipendio di uno di una persona normale no che però io andavo lavoravo e più avevo anche la mancia di parte di sia che che era molto carina con me dicendo me beh mi chiedeva com'è andato le come andate le i miei numeri nel senso i corsi che ho fatto come erano andato e anche elaborando e tutto quanto dimostrato non solo a lei anche mio padre a me stessa di che una vita si vuole i sacrifici può aprire tutte le porte tutto qua come hai usato questi soldi che avevi già in adolescenza beh li ho usato come il solito viaggiare mi ricordo che una volta dicevo con un mio caro amico che stava molto bene economicamente di famiglia anche e lui viaggiava cioè viaggiavano io vengo come ti dico dell'interno del paese viaggiare alla grande città sono due ore e mezza di bollo in quel tempo e prendersi un biglietto aereo non era da tutti io me lo permetteva già a 17 anni a 17 anni mi potevo permettere perché avevo fatto un piccolo fondo per me e potevo andare con mio amico andare a visita alla famiglia che avevo anche in Lima perché sono cresciuto in due parti sia a Lima sia ai Quitos questo è molto affascinante per me sinceramente perché io crescendo nel mio contesto la norma era fare gli studi finire gli studi puoi iniziare a fare una carriera e non lavorare durante l'adolescenza o comunque non avere soldi a prescindere da dove nasceva uno che sia una famiglia ricca che sia una famiglia povera uno nell'adolescenza di solito non aveva soldi e quindi per me questo è un concetto un po' strano in un certo senso quasi fantascienza avere soldi già da piccolo e poter viaggiare poter fare quello che vuoi sì perché ti direi che ho avuto l'opportunità quando per esempio parlando di studi io ho studiato nelle scuole d'arte nel mio popolo nella mia città avevo fatto una pausa di un anno di pausa totale di essere libera e mia madre mi fa e beh se sei così in questo punto fai quello che ti piace mi piaceva l'arte allora sono iscrita alle scuole delle belle arte nella mia città gli ho fatto più o meno otto mesi o nove perché non era quella cioè andavo alle scuole sì conosciuti lì tantissime persone importanti legate alla pittura legati alla polesia legati all'arte della musica tutti quanto però il mio percorso era diverso parliamo degli anni novanta dai quali non diciamo una moda però una già sentire in che cosa ti puoi impegnare per avere un guadagno la vita o di che cosa potresti vivere allora era studiare grafico graphic design e io ero impazzita per quel mondo mi piaceva perché anche erano i primi uso del computer utilizzando photoshop photostyle core draw questi programmi che adesso lo possiamo trovare anche nel telefonino ai miei tempi si doveva prendere un programma proprio ai miei tempi proprio doveva studiare da zero proprio da da queste cose quindi io ero affascinata a questo mondo di graphic design dentro che c'era anche il corso di marketing perché anche dovevi sapere come vendere un prodotto non solo per il colore la bellezza anche dare il perché e convincere allora studiato in quei tempi è un istituto che si chiamava IDAT che oggi è un'università è proprio università perubiana si chiama università perubiana IDAT che che sono lieta veramente di avere avere stata fatta parte di di quel gruppo di studi poi ho lavorato un paio di mesi in un piccolo studio da una signora che non mi pagava proprio niente che si approfittava di me mi teneva delle ore perché io al di là di quello era creativa cioè io una cosa tu mi dici io sto zzzzz pensa 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 e ti creo lo slogan ti creo il colore ti creo la forma o ti do il tipo di di quello che hai bisogno io avevo il contatto con la persona mi sedevo mi ricordo e parlavo fra virgoletta con un cliente la signora si metteva a fianco e io sentivo il discorso della persona che mi diceva ah io vorrei questo vorrei quello io vendo questo io faccio questo io faccio quello allora io mio cervello cominciava a prendere tutta quella informazione e poi dargli una forma dargli un nome dargli un colore dargli un stilo e quello era il mio lavoro e così sono entrato a far parte di una multinazionale in Perù che si chiama Telefonica del Perù ti sto parlando dell'anno 1995 avevo appena 19 anni quindi tu hai lavorato gratis per fare un po' di esperienza l'hai accettato per questo motivo? sì sinceramente sì l'ho fatto per per avere un po' di non solo esperienza perché anche una cosa è stare in un centro di studi e un'altra cosa è stare nelle strada e convincere la gente quello che tu sai fare è meglio così l'ho accettato anche quello non essere pagata però avere un po' di di incontro di esperienza un po' di di soddisfazione anche perché uno dice cavolo sto lavorando cioè vorrei quello che ho imparato vorrei trasmetterlo è stata così vorrei chiederti un'ultima cosa su Perù come paese prima che mi dimentico mi avevi appunto accennato che sei stata fortunata dal punto di vista politico perché sono state uccise tante persone sì molte e spiegami un attimo meglio cioè cosa è successo di preciso perché sono state uccise tante persone e come mai tu non non no direi morte tante persone perché il terrorismo attaccava e la classe più povera parliamo di di persone che lavorano nel campo di queste povere persone che lavorano sulla montagna che con quattro animaletti tirano la terra e tirano le patate e i mais e raccogliono tutte queste cose e sono pagati proprio stracci dei stracci ma dallo Stato cioè in questo caso lo Stato non era mai presente nella vita quotidiana di queste persone perché non avevano luce non ancora in alcuni posti non ci sono e oggi come oggi la tecnologia è avanzata un tempo non c'era neanche il sistema di telefonia quando io lavoravo nel sistema di telefonia in Perù siamo arrivati nei punti più estremi del Perù che telefonica di quel tempo telefonica del Perù aveva portato telefonia anche alle persone dell'ultimo posto alla punta di una montagna diciamo e ho avuto l'opportunità di vederlo con i miei occhi perché lavoravo in un settore dove ero privilegiata di essere con le persone che facevano l'apertura di questi posti e questo mi ha dato dire la mia esperienza con loro che vedere e non solo ascoltare vedere con i miei occhi e l'ho fatta wow c'era questa divisione dove da un lato c'era povertà estrema e poi c'era chi stava fortunatamente un po' medio che sicuramente è una situazione che si è verificata in tanti paesi del mondo esatto però sono contento che tu da questo punto di vista sia stata più fortunata almeno questo sì direi di sì perché anche fortunata in tutto senso nella vita una sceglie fa scelta direi faccio scelta anche delle persone che sono a fianco a me le persone come amicizia e conoscendo le persone possono essere una parte importante nella tua conoscenza nella tua vita cresci con loro fai delle cose con loro e io ho avuto l'opportunità di avere tantissime persone che ancora oggi nel mio paese se tu apri un programma di tv anche se vai sui giornali le persone che io conoscevo oggi sono dentro di un governo diciamo sono parte del paese ti parlo di una avvocata di un politico anche di persone legate legate allo sport e tutto quanto mi è piaciuto molto essere un po' camaleontica e ho avuto amici da tutte le parti anche perché ho vissuto in mezzo a queste persone e questo mi è piaciuto molto di non essere anche discriminata o marginata e nessun senso ok quindi sei sei arrivata in Europa che ho un bel stato da Peru a Europa un stato continentale se così posso dire ma fammi capire come mai sei arrivata proprio qui in Italia in questa zona in questa regione allora lavorando in telefono in questa multinazionale sentendo direttamente lavorando direttamente con gli spagnoli sono sincera i miei capi direttamente erano loro e io sempre che ero la persona adatta alla sala di riunione con loro io preparavo tutta la la struttura di quello che sono le riunioni il shooting era a carico mio quindi io sentivo i discorsi anche di loro che molti di loro andavano via per cambiamento anche del governo che loro stavano proprio non erano d'accordo e stavano proprio andandosi allora anche a me essendo parte di loro e sapevo che potrebbe essere in mira di perdere il mio posto di lavoro ho deciso di andarmene anche io chiedendo anche loro la possibilità di poter venire in Europa con una specie di borsa di studio sono riuscito a farlo in Germania sono stato a fare il corso di tedesco a Magonza vicino a Frankfurt e a Mainz all'università di Mainz dentro l'università di Mainz c'è il campus di lingua ai quali mi sono iscritto alla Folkenschule e ho fatto tre livelli di tedesco dai quali il terzo quasi non l'ho finita sinceramente per motivo anche di budget poi sono deciso di venire in Europa in Italia diciamo a fare un giretto di Natale e sono finita qua non sono tornata più mi è piaciuto più vedere il mondo latino che vivere è un mondo diciamo non solo estritto anche chiuso ok come sei diventata invece transformista ah come sono diventata transformista bella domanda allora io lavoro qua arrivando in Italia e ho fatto tanti tipi di lavoro ho lavorato curando bambini sono stato maggiordomo in casa ho cresciuto anche curato anche persone anziane e poi ho avuto l'opportunità di lavorare in lo che restoro il mondo alberghiero sono 16 anni che lavoro come alberghiero faccio un mestiere umile e quindi io sendo una piccola cameriera conoscevo uno del capo ricevimento che mi dice una volta dai andiamo a fare un giro a Milano sempre e il mercore gioia c'è un locale a Alun mi ricordo dove possiamo giocare a travestirci allora ti sto parlando del 2000 mi sono entrato a lavorare con loro nel 2007 ti parlo del 2008 o 2009 mi ricordo è stata la prima volta che l'ho fatto giocando e sono entrato a questo locale che si chiamava la la novi idea si chiamava che era il mercore gioia e andavo in questo posto che mi ha affascinato la prima volta e poi ho cominciato ad andare sempre con questo mio carissimo amico di quel tempo che a oggi è una persona molto importante sempre nel settore e lui si ha fatto il percorso lui è una trans è una trans un vero transessuale si si un vero transessuale io sono un transformista e continuerò ad esserlo mentre che mi diverto è un modo di mio personaggio mentre che mi sento avere anche la voglia di farlo perché molte si ti ti stanchi ah no basta che stuccia no mentre che io continuo il mio percorso mi diverto continuerò penso a essere quella che sono ho capito cioè hai iniziato tutto per gioco gioco si si ti sei divertita allora hai continuato a fare si e poi è entrato in un club dove ho conosciuto una carissima amica che si chiama Sandra Shaw al quale al conoscerla mi ha accolto molto bene di origine paraguaia anche lei sudamericana diciamo abbiamo avuto questo feeling di amicizia lei si è avvicinata mi ha consigliato no potresti fare così cosa hai utilizzare bene i trucchi perché io mi troppo zero e quindi mi ha insegnato un po' di questa cosa però mi ha detto tu hai più più da dare quindi poi mi ha integrato anche a far parte del gruppo di ballerine del suo staff perché lei fa spettacoli in giro in tutta Italia e sono stata parte di un gruppo un piccolo gruppo di amazzone che lei mi presentava poi piano piano lei mi ha buttata mi ha detto no tu devi fare il tuo di sola e quindi mi ha proprio pestato no in cattiveria mi ha pestato in in essere qualcuna cioè devi dimostrare quello che sei dentro e ho buttato e quella sono oggi quel filmino che ti ho mandato sono cose che grazie a lei ho imparato anche a farmi i costumi perché i costumi la faccio io mi aiuta molte volte anche lei però le idee tutte le cose ho imparato sempre guardando sulle sue orme quello che faceva lei e mi diceva fai così fai cos'hai e arrivi a fare queste piccole cose esattamente mi ha dato dei filmini e mi ha fatto vedere che ti esibisci sul parco come una vera artista di fatto grazie ma non mi considero un artista non mi sono mai considerata un artista mi sento una persona che che offro un piccolo spettacolo però però non mi non direi neanche delle vere artiste che conosco tante che sono vere artiste io mi considero semplicemente una che si diverte mentre stavo in un palco ecco però il fatto che fai dei piccoli spettacoli trascende un po' quello che era il gioco iniziale senza usare troppi paroloni però trascende un po' quello che era il gioco iniziale è come se avessi quasi una carriera in questo senso anche se tu la fai per divertimento per passione tutti questi motivi cioè comunque ti esibisci su dei veri parchi e fai dei veri spettacoli per cui sì grazie è un modo di è come si dice no che io non mi preparo per esempio non mi preparo ne preparo neanche il valo neanche la coreografia tutto esce il momento io mentre vado io al mattino quando mi alzo mi prendo il mio cellulare mi metto l'ipad l'orecchio e vado a lavoro mentre sto a lavoro tutta la settimana del lunedì al giorno che mi tocca lo spettacolo c'ho in l'orecchio la canzone che devo seguire e mentre sento questa canzone e vivo dentro di me e come come sarebbe come sarebbe questo music come sarebbe i movimenti dalle piccole cose quello che tu hai visto negli spettacoli e quello che vedi tutte quelle cose sono al momento non è niente diciamo che è una una trama un seguimento no o devo ti consigliano fai così o fai cosa o muovere le mani come fanno molte che muovi le mani di qua di là io no io dovrei essere come mi viene io ballo con la musica mi faccio andare mi mi faccio trasandare direi sì chiaro chiaro ho capito tutto molto affascinante il tuo modo di approcciare il mondo dei trasformisti sicuramente tutte le altre persone di cui ho sentito parlare mi è sempre stato spiegato che si preparano in anticipo e ci mettono un bel po' di impegno per prepararsi per creare il ballo piuttosto che le cose di contorno che può succedere durante lo spettacolo invece tu sei proprio naturale in questo senso grazie perché è una cosa che secondo me le cose non preparate che vengono così plasmati no fatte al momento sono quelle che hanno un grande valore secondo me perché esce il tuo cioè il tuo interno il tuo esce di te tutto ciò che hai da dare non stai seguendo diciamo una linea no un balletto non lo so un ballo di gruppo come fanno molte ok detto questo dimmi tu qual è la definizione precisa di trasformista e come differisce da transessuale tra le altre cose allora il trasformista può essere una persona come te come me come qualunque persona che gira in strada con un osainetto dentro il computer con un ragazzo di ufficio un cuoco può esserlo può essere e ci sono eh una cameriera come me un operaio qualunque persona che dentro dello saino porta il suo mestiere e poi arrivando a casa ha un altro saino come il mio borso verde che tu vedi che c'ho le mie cose da prepararmi e fare e creare il personaggio che sono trasformarmi da quello che ero a quello che sono oggi il transessualismo è un'altra cosa è uno già io chiamerei una identità perché si sentono di essere una donna a 360 gradi in tutto senso per quello che vanno a una a un incontro psicologico per convincersi di quello che devono fare nel caso di fare un percorso di diciamo togliersi il togliersi e anche aumentare delle cose per esempio mettersi dei seni delle protesi e tutti dove le mancano insomma è un percorso preparazione di bocce e preparazione devono proprio essere un studio totalmente alla donna cioè praticamente vivono per far vedersi una donna e io questo rispetto per chi lo fa chi ha avuto il coraggio e ho molte amiche così molte che come te l'ho detto questa mia cara amica di lavoro che adesso è una è una vice direttrice di un albergo famoso a Milano e quindi a me fa orgoglio perché l'ho visto del suo percorso ho parlato molte volte con lei viaggiavamo anche insieme abbiamo viaggiato anche per il mondo l'ho portato anche il mio paese siamo meravigliati di vedere il mio paese e quindi anche di là ha conosciuto anche delle piccole storie dal quale la butto anche un po' di diciamo il valore il coraggio di decidere a fare quello che ha fatto il suo percorso perché è una cosa che sempre lo teneva lei come discorso quando facevamo le nostre serate insieme una cena mentre parlavamo mangiando arrivava anche questo puntini al tavolo noi chiacchierando semplicemente io arrivavo sempre il discorso io finirò fino qua quella che vedi tu ma lei aveva sempre questo punto di domanda se avrà o non avrà fatto e a una certa età l'ha fatto e sono felice per lei perché se lei è felice sono felice anch'io e invece travestito? il travestito è un ragazzo è un ragazzo che praticamente ha i capelli lunghi si vuole a volte può utilizzare delle parrucche quello che vuole si praticamente vive come vestita da donna ma dentro non è un cambiamento è semplicemente come il nome travestito usare un travestimento usare dei vestiti ma non è come una transessuale che ha dei petto e le tette o delle protesi nel petto o anche nel sedere parliamo così però da questo punto di vista anche tu potresti essere considerata travestito potrei essere considerata ma non mi considerano travestito perché dovresti vivere così io non vivo così quindi la vera differenza tu prima di venire a casa mia io ero un'altra persona che dopo è andato giù il garage si è trasformato e sono quella bene quindi in conclusione tu sei una persona che all'occorrenza si veste diversamente e si trucca diversamente altrimenti sei un ragazzo delle strade sì che passa vicino a te che se tu mi vedi ti saluto e tu mi dici ma chi è quello tutto qua e invece trasformarmi in essere questa che sono è un'altra cosa il travestimento è semplicemente uno che vive vestito si veste vive vestito cioè 24 ore cioè tutto il giorno veste così è un travestito ma non va altre sul cambiamento per quello è la diversità di un travestito che un trasformista che è uno che già ha il suo corpo il suo corpo prima comincia dalla testa a mettersi tutte le cose che deve fare il percorso il secondo è la parte fisica aumenta il volume del petto dei glutei tutte le cose che devono fare loro per dare un certo tocco a essere arrivare alla femminità estrema diciamo a volte molti esagerano perché ho visto dei corpi che veramente rispetto rispetto no però non concordo cioè non vado non sono non sono una di quella che potrei dire mi piacerebbe dentro il mio corpo non lo so non l'ho mai accettato questo per quello definirei sempre il mio modo di essere un trasformista perché tutto quello che tu vedi qua è mio cioè tutto è mio tutto qua chiaro 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 quindi le persone che poi diventano trans sono proprio le persone convinte di fare il passo successivo ben definito che comporta certe insomma certe accortezze e certe conseguenze di cui devono essere ben consapevoli non è un viaggio semplice no penso di no perché molti scelgono vari tipi di strade quelle strade che conosciamo la più brutta le strade proprio che fanno loro della vita stanno a marciapiedi insomma volgarmente chiamandolo quelli che scelgono proprio fare una professione mentre che stanno in in transizione sì scelgono chissà oltre fanno metà metà hanno fatto un po' di strada poi lasciano quella vita hanno preso un po' di soldi e con quei soldi fanno il percorso e in più creano la nuova identità una parrucchiera una truccatrice una ragazza di moda una estetista una mille cose non per non deve essere sempre il fatto di finire su quei marciapiedi e via è finita lì la tua vita no molte scelgono e sono molto diciamo ho un rispetto a chi fa questo decide proprio di innalzare il nome loro perché il nome loro è macchiato di quello in passato che quelle prime che sono state proprio marginate che loro non avevano neanche diritto a nulla oggi come oggi le ragazze hanno un diritto possono anche cambiare nome una volta no una volta dovevano andare con il passaporto è scritto Francesco Paolo chiamalo come vuoi ma non è il nome che loro hanno scelto dopo quando volevano identificarsi con questa con questa nuova nuovo corpo nuovo anima nuovo essere umano capisci sono due cose molto diverse credo che ma quando hai detto prima che alcune di queste persone finiscono per strada cosa intendevi di preciso finisco per strada per perché è una scelta sinceramente io ho visto delle persone che hanno la capacità di fare altri tipi di cose come lavori come faccio io che ti costa alzarti 5 o 6 del mattino e lavarti e preparare la tua baligia con le cose che ti servono e il tuo lavoro e fare un mestiere cameriera e fare i piani che ne so io tutti i tipi di mestieri però preferiscono il buio preferiscono la notte lunga dove succede di tutto gente che va che vieni io lo chiamerei un po' di non è incoscienza anche un po' di andare oltre andare oltre perché trovano di tutto un delinquente un tossico una una persona disturbata che ne so io ho sentito tantissime storie di loro che pure raccontando quelle vecchie alle nuove e queste nuove le dicono cavolo lo potrei fare un pezzettino di tempo poi vado via e mi creo un'altra identità come quella di fare la parrucchiera o quel punto di cosa no continuano allo stesso che non ha servito quella vita o la lezione perché molte hanno dato anche la vita e sono finite male in sacchetti neri morte o in giri strani di droga perché a molte di loro in quei tempi le facevano portare la droga in suo corpo o le facevano anche come si dice essere burriero o ottenere le cose strane o la droga dentro di casa loro che dopo veniva la polizia le portavano via cioè tutte queste cose capisci che si mettevano proprio in quel mondo proprio senza fine senza una è un buio totale ecco lo chiamerei così è sempre una questione di scelte a tuo avviso o qualcuna magari è stata costretta a fare allora costrette sì molte e questo voglio chiarire questa situazione molte persone io parlo di quelle persone che sono che hanno vissuto già il suo percorso no che adesso si trovano un po' grande invecchiate allora che fanno la furbizia di prendere i new entry che sono questi bambini o bambine perché si sentono già piccole ed è piccole sono già donne dentro e metterle in questo mondo cioè lo chiamerei indurre non so se utilizzo bene la parola indurli a questo mondo fin da piccole il mio paese ti parlo di queste che fanno queste schifezze le spalle le mani finiscono i mani nere finiscono per strada buttano la sua giovinezza la sua bellezza in questo mondo da queste qua che le fanno pagare un sacco di soldi per averle portato fino qua e fino adesso qualcuno ha rischiato anche la pelle ha rischiato anche la pelle molte finiscono malate, molte finiscono tossiche perché sono costrette a una grande depressione proprio, li tengono sotto controllo, quindi questi ragazzini di oggi si continuano in questo mondo così, continuano a prendere la cosa più facile, la droga e andare a fare quello che fanno è in un altro stato, quindi di no coscienza. E quelle altre che fanno queste cose sono delle incoscienti anche di più, non ho un nome, non ho un nome per loro, credimi, però queste storie c'è in giro, molto, di quelle non mi sento ne identificata, neanche appartenere a quelle. Perché quando io conosco una ragazzina che vuole fare questa cosa qua, quando ho visto in club, che vuole imparare, io le chiedo prima come è la sua storia e tutto quanto, molte provengono anche di piccole realtà diciamo. Però io le chiedo le piccole cose, capisco in che situazione si trovano. Molte di loro mi ringraziano perché hanno fatto la parrucchiera, la scelta di essere la parrucchiera, invece di stare in un angolo a fare chissà cosa. O di lavorare con me, perché alcuni me l'ho portato anche a lavorare con me, a fare la cameriera e quindi si trovano e si identificano anche perché non hanno bisogno di stare tutto il giorno a diventare una cosa che non è. E' solo per un divertimento, perché alla fine dice, è un divertimento. Le ragazze di oggi non vanno proprio a creare, a cercare questi, diciamo, prototipo. Non si usa più. I ragazzi di oggi, è più aperto, è più libero. E questo mi piace. Non la butto io l'opportunità che hanno avuto loro. Però tu come fai a sapere tutte queste storie? Nel senso, tu sei in continuo contatto con tutte queste persone? Sì, mi trovo in giro nel club, nelle discoteche dove le frequento, dove le conosco. Anche fuori con un social, un messaggio che li mando, mi raccontano che tutto sta andando bene, che stanno facendo le sue cose, che hanno trovato un fidanzato. E questa cosa a me mi dà una gioia, perché non per il fatto di aver fatto qualunque cosa per loro, sino per il fatto di aver, sono stato nel momento giusto da sentire, e anche loro sentirmi, il mio parere. E loro anche il suo. E loro dopo fanno le sue conclusioni. Sono scelte. Quello che mi hai chiesto, la risposta sta lì. E tu, in questi club dove ci vai, sia come cliente, sia come trasformista, quindi diresti che ci sono sempre persone di tutti i tipi. Quindi se io entrassi in questo istante, in uno di questi club, troverei sia persone che hanno una vita, diciamo, stabile. Certo, tu trovi nel club, dalla segretaria, dalla ragazza che lavora in parrucchieri, una parrucchiera, una signora, ti parlo, una certa età, 40-45 anni, un avvocato, un avvocata, un calciatore, perché no? Un poliziotto può essere. Ci trovi tutto dentro. E non è il fatto che se tu, io che sono, vado a divulgare queste cose, ti sto raccontando a te all'aperto, però rimane lì dentro. E queste persone si affissionano a una perché sa chi sei tu, ci tengono, piace la tua amicizia perché ti vengono a fare una chiacchiera di un paio di minuti, anche una seduta di un'oretta, due, stiamo lì a chiacchierare, anche raccontandomi io, anche loro, i suoi problemi. Facciamo una specie di, non un gruppo di autoaiuto, ma una specie di socializzare fra le persone che ognuno ha del suo. Tutto qua. È un modo di andare lì a sfogarti, ecco, e trovi di tutto. Ma giusto per essere chiari, che club sono questi? Come si chiamano? Non sono i club dove magari io vado la sera solamente per ascoltare un po' di musica, è un club diverso? Sì, è un club privé, che sai, sentire privé già ti può venire tante cose, però sono club dove succede di tutto. Parliamo degli anni 50, 60, siamo a New York, c'era le studio 54, e le studio 54 nel mondo è stato uno dei primi club privé più grandi, dei quali, è successo di tutto, oggi in Europa, a Milano, a Parigi, a dove vuoi, un privé è un posto che può essere socio, certamente, qualunque persona, certamente ci sono le regole dentro. Non si deve un po' esagerare, certe persone, alcune non entrano perché dopo due, tre drink, che cominciano a dare i numeri, questi non vanno ammessi, perché tu stai andando in un posto tranquillo, dove ti vai a divertire, a passare la serata, qualcuno porta sua moglie, qualcuno porta l'amica, qualcuno porta la fidanzatina, o semplicemente due persone che si conoscono lì, insomma, e che così è un ciclo. Parlando appunto di divertimento, questo divertimento è principalmente il sesso. Sì. È vero che succedono tutte queste cose, che per esempio, è vero che capita che una coppia, o comunque due persone facciano sesso al centro del locale, davanti a tutti gli altri. Ebbè, è un privé difende come funziona, come ti dicevo. Dove vado io c'è la pista di ballo, hai visto dove me si visco, e lì si balla tutti, tutti ci conosciamo, ci sono un intorno, un circolo, dai quali tutti siano, e c'è una parte anche del buffet dove la gente va a mangiare, chi vuole mangiare, c'è il bar, e c'è una piccola parte, non diciamo un'istanza, una specie di piccolo locale dove uno entra, e per quello è il privé, e dove quale trova la situazione di piccole stanze, dove puoi stare in privato con la tua ragazza, ragazzo, chiamali come vuoi. E anche alcuni che piacciono altri tipi di emozioni, parlo di sadismo, e si fanno le gare, c'è il letto rotondo, c'è la specie di cavaletto dove si mettono, li legano, e possono fare delle cose un po' particolari. Tutte queste fantasie che le persone portano in club lo possono fare sempre in questo attrezzo, diciamo, in questo locale. Però se ho ben capito, queste stanze non hanno porte. Sì, hanno porte. Ma sono sempre aperte? No, non è che sia aperto. Ci sono alcuni che hanno la finestrina dove uno passa e può guardare. Chi vuoi farsi vedere, chi non vuole far vedere si chiude. Tutto qua. E nessuno, e le regole è che nessuno può permettersi di mettere la mano o fare qualunque cosa. Perché va, non diciamo denunciato, però va visto male. Si fa così, perché lo chiamano anche l'attenzione da parte dei proprietari, diciamo. Perché c'è qualcuno in giro che va a guardare quello che fanno gli altri, questo si fa, un'osservazione di qualcuno che vuole fare un po' le stupidine, non vuole fare a mettere la mano alla tipa o così, questo non è ammesso. È un posto dove si può fare di tutto, però sempre con i puntini, con le regole che tu devi seguire. Io, per esempio, sono anche dentro del club, ci sono le giornate che, il venerdì come oggi, ci sono le donne che sono permesse e tutto quanto, ci sono le donne che vanno affascinate di noi. Passano a fianco a me, mi cominciano a carezzare le gambe, o mi toccano un po' di qua per vedere se ho le tette vere o non sono, e mi toccano i capelli perché sentono, può essere sintetico il mio, è naturale comunque. E quindi tutte queste cose vogliono approcciare, hanno queste fantasie. E sono molte donne che a oggi preferiscono così invece di fare, non lo so, una specie di lesbo perché vogliono anche altre donne portare al marito o farsi l'intercambio delle coppie che vanno due con due e si intercambiano. Invece no, vogliono questo tipo di preferenze, quindi mi è capitato, molte volte ho rifiutato. Molte volte sì, mi sono divertita, molte volte sono stato in mezzo a loro ma non ho combinato nulla, perché non mi andava proprio. Quindi tu di solito come reagisci quando ti approcciano le persone? Con un sorriso la prima cosa. Secondo, parlare a quattro occhi con le persone per vedere se siamo compatibili o no. E terzo, deve avere una cosa in più, secondo me, un feeling. E molte volte non c'è. Mi stavi dicendo prima che lì nel Club Privé succede un po' di tutto. Sì? Raccontami un po' che cosa ti viene in mente, quali sono le esperienze che più ti hanno colpito? L'esperienza è ricordare molte cose, molti approcci. E' avuto occasione di stare in mezzo a una coppia di uomo-donna ai quali il mio ruolo era di stare con la signora, questa tipa molto bella, una tedesca, mi ricordo. Il marito anche, che stava in mezzo a noi. Quindi il ruolo suo era di, praticamente, voleva vedere che io facesse qualcosa con sua moglie, un po' di lesbico. Mentre che lui dopo voleva tutte e due soddisfarci. L'altra occasione è stato un gioco, ma di parlo 5-6 persone, con una tipa che faceva la MILF, al quale lei ha stato insieme a 6-7 ragazzi. Io semplicemente toccava qualcuno, ecco. Ma non sono andata più oltre, perché lei, insomma, doveva, era la padrona di quel momento. Io semplicemente ero una spettatrice. Ma ti chiedevano di partecipare a queste cose dietro pagamento? No, non si parla di soldi. In questi tipi di incontri, sia un privo e no, non si fa, perché siamo in un posto a divertirci, non siamo in un posto a fare altri. Penso io. Ho capito. Quindi è una mentalità che gira attorno al divertimento? Certo. E chi vuole fare una cosa, fa. Chi vuole partecipare. E basta. Esatto. Ci sono delle regole? Sì, sì, le regole sono compiute. Sennò sei fuori del locale. Sennò sei fuori. Per esempio, questo caso che stai dicendo, oltre a chiedere altre cose, anche dei soldi, lì, assolutamente, è vietato anche espolso. Non ne è permesso. Insomma, è un posto a divertirci, un posto a guadagno, ecco. Penso io. Che non farei? Allora a questo punto è un angolo, penso, no? Giusto? Assolutamente no. Chiaro. È un club dove tutto è tassativamente governato da certe regole. Nessuno deve fare diversamente e sicuramente non deve accettare i pagamenti. Certo. Perché sarebbe tutto illegale. Lo sai, quando io sono venuto a Milano in un club di questo tipo per scoprire persone come te con storie interessanti, è successa una cosa. Raccontami. È successo che, avvicinandomi all'ingresso del club, mi sono soffermato due secondi per leggere le etichette del citofono. Questo perché, appunto, non c'ero mai stato e volevo capire quale pulsante giusto da schiacciare per farmi aprire il protrone e quindi entrare. Quando ho aspettato quei due secondi stavano passando delle persone sul marciapiede dall'altro lato della strada e queste persone hanno iniziato a gridare che fossi un bastardo gay, fondamentalmente. Ma che tipo di club era, scusami? Non ho capito dove sei andato. Club privé a Milano? Sì, ma un club privé non è specifico per una certo tipo di persone. Un privé è aperto a tutti. Non è specifico che deve essere proprio il club per le trans, o il club per le donne, o il club per il bisessuale. È aperto a tutti. Oggi come oggi, non esiste questo... dare un nome, cioè dare un codice. No. Tutti possono essere parte di loro senza nessun problema, penso. Nessun problema di nessun genere. Qualunque persona può essere participe. Certo, però ecco, quando poi sono salito all'interno del club ho fatto una domanda alle persone presenti chiedendo a loro se fosse mai successo anche a loro e mi hanno detto di no. Mi hanno risposto che a loro non è mai successo che altre persone facciano commenti di questo tipo. E quindi è stata una situazione un pochino curiosa perché hanno fatto questi commenti nei miei confronti ma probabilmente perché ero un volto nuovo che non è mai stato visto in zona a differenza di tutte le altre persone che frequentano il locale che sicuramente sono delle abitue. A me è mai successo questo. Quelli erano delle abitue e quindi non ricevevano commenti. Non penso perché anzitutto io non guardo a fianco chi per esempio sta per arrivare e si sono alla porta di un club. Parlo di me. Non guardo niente. Suono dove devo suonare e mi aprono. Vedo gente che passa intorno a me ma io non li guardo né loro mi guardano quindi non ho fatto nessun segno. Forse è quello. Prima mi fu accennato che al di là di questo mondo di divertimento sessuale quindi al di là di queste esperienze puramente sessuali hai anche un numero di amici che sono trans però con questi amici hai comunque fatto anche tutta una serie di altre esperienze in particolare anche dei viaggi delle scoperte. Puoi raccontarmi qualcosa di più? Ebbè prima di questo mio carissimo una carissima amica perché adesso è diventato un'altra gene e abbiamo lavoravamo insieme e un giorno le dico guarda sto andando in paese mi ha detto quando che va io le ho detto bene fine dicembre novembre dicembre sto andando sto partendo e non mi ha detto niente mi ha detto un mese prima che io partisse se potrei poteva avere avuto la possibilità di venire anche con me a fare questo giro io assolutamente ho detto di sì cioè non c'era nessun problema e lui è felicissima di venire ho portato fino a casa mia a casa miei abbiamo girato un po' il mio paese appresso a conoscere un paese come il mio dove c'è un po' di mare montagna foresta deserto e le ha guardato tutto cioè ha visto tutto in questo viaggio e la cosa più fascinante che mi ha detto prima di salutarci era che l'esperienza che ha avuto con me anche pur che lui ha viaggiato tantissimo pur che è una persona che conosco e ha viaggiato molto nel mondo le ha coinvolto il fatto di essere in un posto come il maciupiccio di aver scalato abbiamo scalato questo maciupiccio alzarsi alle 4 del mattino con pioggia una giornata bruttissima e poi fare fatica a fare le scale al maciupiccio perché vai in questo senso come il zigzag di una costura e arrivare alla cima dopo due ore quasi di jogging anche trekking arrivare e buttati lì seduti con la lingua fuori e a un certo punto questa giornata buia che abbiamo visto il cielo il cielo si comincia a aprire e picchia un sole dietro e sotto si trovi alla città eterna del maciupiccio e lui ha cominciato a piangere come una bambina poi quando si siamo salutati che lui doveva ritornare mi ha detto questo che è stato il momento più bello del viaggio e non solo quello abbiamo anche presso dalla montagna abbiamo preso il bus per andare quasi verso dove comincia dove finisce la montagna e comincia l'amazzonia abbiamo preso il barco la barca proprio un barco grande ai quali abbiamo fatto quattro giorni di escursione fiume giù per arrivare alla città dove sono nata io poiché nella mia città solo puoi accedere o tramite via aereo o tramite la barca le strade non ci sono perché siamo in mezzo alla foresta tutto qua incredibile veramente incredibile ma tu non hai pianto quando eri sul maciupiccio sinceramente no perché sono andate tante volte in vita mia sono stato a maciupiccio tre o quattro volte tre volte è un po' di andare per caricarsi d'energia perché è quello ti carica proprio d'energia ti carica di cose positive vai lì a lasciare le cose negative e vai a prendere le cose positive cioè è un posto dove tu vai ti fai andare ti fai buttare tutto ciò che non serve nella vita e vai a prendere delle cose buone perché guardare questo posto e stare lì ti mette un po' di riflessione anche essere in mezzo alla gente di guardare la gente come l'amabilità la gentilezza l'umiltà e tutte queste cose sono perle che tu fai un argomento te stesso e dici ma come mai queste persone che in poco hanno sempre quel sorriso piantato in faccia e io perché non posso averla e non hanno niente dici allora tu impari un po' su queste cose e ti porti con te a essere positiva nella vita anche se puoi avere delle cose brutte dietro a te ma dando sempre una buona faccia aiuta a che ogni giorno sia migliore secondo me devo chiederti ma per te queste esperienze che ti sei goduto con amici transessuali o travestiti eccetera sono esperienze superiori perché questi amici magari hanno una mentalità diversa e pensano di più a come scatenarsi a come lasciarsi andare e godersi al meglio la vita quindi per questi motivi sono esperienze superiori sono attività più divertenti penso in due cose nel trascorso della mia vita ci sono i momenti per divertirci ci sono i momenti per guadagnare o lavorare ci sono i momenti per ridere ci sono i momenti per piangere sono tanti i momenti nel momento che a noi la vita ci tocca divertirci se dobbiamo divertire è in modo giusto senza esagerare dobbiamo anche avere un futuro un pensiero un domani cioè raccogliere qualcosa come a me mi fa imparare gli animali vedo queste come si chiamano non sono cricetti gli animali che raccogliono il cibo quando arriva già i tempi brutti come l'inverno escoriatoli ecco escoriatoli è un esempio gli escoriatoli ti insegnano a raccogliere nel momento giusto e quando arriva il momento brutto loro hanno da cosa vivere anche noi possiamo essere degli escoriatoli che nei tempi buoni che abbiamo raccogliere quello che ci servirà per un domani quando noi non avremo la possibilità di un miglioramento di vita ecco a questo è il suggerito dobbiamo pensarci anche a un futuro non solo nel momento di diversione basta poi arriva un domani ti trovi con una mano avanti una mano indietro e questo al di là che fa pena e anche da parte mia o da parte di chi pensa dovrebbe essere un modo di di ragionare no? si può divertire certo si può anche ragionare possiamo fare due cose all'estremo tu stai pensando tantissimo al futuro? io penso sempre al futuro credimi penso sempre un domani un giorno finisce la voglia un giorno ti senti stanca un giorno però devi anche essere pronta dobbiamo essere tutti pronti per il momento migliore anche per peggiori momenti però dobbiamo essere sempre pronti ok se ho ben capito la tua situazione attuale è questa tu fai un lavoro modesto come cameriera per mantenerti per avere uno stipendio a fine mese e in più fai la trasformista per passione si e hai invece degli obiettivi più precisi per il futuro qualcosa di più concreto più definito o continuare andando avanti penso dedicarmi a un'altra cosa io domani lascerò sicuramente tutto ciò che è questo e dedicarmi al mio futuro sai come si sarebbe il mio futuro oggi come oggi siamo un po' egoisti in giro ci sono tante persone che hanno bisogno di noi penso di crescere a qualcuno o qualcuna una ragazzina diventare sua matrigna o padre come vuoi chiamare essere un riferimento per questa persona che quando io avrei bisogno sarà sicuramente a fianco a me a darmi una mano tutto qua questo è il mio futuro pensare anche per gli altri cioè dedicarmi a questa persona crescerla e darle dei valori darle dell'educazione e darle tutto ciò che ho e in un momento che a me quelle cose non mi serviranno perché mi servirà la forza mi servirà mi serviranno al di là della forza anche qualcuno che accude a me in quel momento tutto quello che avrei fatto non per interesse neanche per una cosa così è una cosa che mi viene spontanea farlo avrei bisogno perché anche crescere agli altri come fanno molti genitori che tanto ammirazione ho per crescere ai figli se capisci questo noi che finiamo sole nella vita abbiamo anche bisogno io direi su di meno un domani di avere accuderle a una persona che un giorno potrà pensare anche a me appare evidente che tu pensi tantissimo alle persone e all'aspetto sociale molto perché si impara di molto si impara delle persone si cresce con le persone si si dà qualcosa la cultura è importante dobbiamo avere anche il rispetto delle altre non solo vedere a noi vediamo anche gli altri come sono e quello che ti insegnano io per esempio vengo di un posto come la foresta amazzonica dove l'indios per esempio vanno a caccia quando loro cacciano devono cacciare quello che guardano prima di tutto e quello che hai sentito da loro è che quando devono cacciare non ammazzano mai guardano sempre a a fare caccia del più grande ai piccoli si rimangono orfani per esempio perché hanno preso la madre e aveva un cucciolo a fianco loro si prendono cura capito? li portano con sé li curano e quando sono un po' grandi li lasciano perché deve fare un percorso perché deve fare un ciclo deve fare un ciclo come tutti quanti perché loro anche quando devono uccidere un animale le chiedono le scuse chiedono scuse al suo spirito perché le sta toliendo la vita ma quello lo fanno loro perché è un ringraziamento alla terra no? allo stesso tempo si succede che questo animaletto che loro prendono rimane orfano loro si prendono cura di questi animaletti se lo portano con sé e li tengono poi li lasciano è questo che ho imparato penso che quello è un modo di 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 piccole cose che uno può imparare di una cultura come loro che non hanno mai andato a una scuola che non sono mai stato a imparare che non so da qualcuno però penso che loro la sua filosofia è questa la semplicità la natura insegna perché anche loro osservano questo degli altri anche come fanno gli animali gli animali fanno anche questo istintivo una leonesia quando attacca attacca sempre a chi può ma lascia sempre agli altri per avere una continuazione tu hai mai pensato ad avere un figlio mi è piaciuto avere un figlio o crescerlo però non è mai tardi penso non è mai tardi non dico anche naturale dico anche un figlio adottato come il caso che ti dicevo mi piacerebbe moltissimo sì sì crescere a qualcuno sì darle qualcosa di me qualcosa che potrei incamminare una strada sempre giusta che potrà affrontare anche questa vita di tutti noi penso di sì e come come sarebbe la tua famiglia nel tuo sogno sarei anzitutto uscire di questo smettere di essere trasformista sì infatti essere un padre un padre con un'altra persona a fianco a me che ho e che possiamo crescerli perché no scusami quindi torneresti ad essere un uomo biologico comune sì sì che io affronti dovrei andare a scuola capisci non è che uno può andare a scuola no secondo me neanche io il discorso è che io non mi identifico ad essere una transessuale sono un trasformista alla fine alla fine in fondo in fondo sono sempre un ragazzo quindi le mie origine la mia terra terra come si dice sarà sempre quello ma il tuo orientamento sessuale qual è a questo punto? è sempre quella che sono non mi definirei neanche una donna in un uomo c'è tutto qua beh però te l'ho chiesto perché mi hai detto che vorresti fare una famiglia e tu saresti il padre sì però l'altra persona con cui spiegheresti tutta la vita sarebbe un uomo o una donna? secondo me io con un uomo sì con una donna perché no scusami sempre che abbiamo un accordo fra noi come molte persone come oltre molte realtà che si vedono le famiglie che si sono costituite così oggi come oggi non mi troverei male l'importante è amare al resto amare a chi è a fianco a te dare qualcosa a fianco a te quello che li vedo non mi interessa il ruolo di chi può essere così o cosa no basta avere il rispetto e l'amore di una persona penso che uno può costruire tutto ciò che vuole nella vita sì fantastico mi piace molto il tuo discorso sicuramente molti mi parlano di rispetto e ora capisco perché questa è una questione davvero fondamentale davvero fondamentale sì tu diresti che oggi come oggi la maggior parte dei tuoi amici sono transessuali o trasvestiti o trasformisti sì e spendi tutto il tempo libero con loro no 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 perché io oltre di essere Jamila ho un altro altro nome originale dai quali ho una vita così normale esco con loro faccio con loro tantissime cose cioè questo quando ho il tempo il bisogno di stare a crearmi il mio personaggio però è l'altro tempo sono anche con i miei amici da lavoro per esempio con i miei amici che conosco da tanti tempi non solo lavorare anche amici che ho conosciuto è un cinema è un locale anche per strada ho fatto amicizia e quindi seguo queste persone seguo mi piace stare in mezzo agli altri non solo nel mondo che mi piace come questo del travestimento o del transformismo mi piace fare pausa con il transformismo e essere il ragazzo che va con gli altri a fare una serata non lo so un pub a ridere scherzare a sentire il loro discorso a ballare e godermela e quando sei un ragazzo che va a fare una serata in un pub gli altri sanno che sei un transformista o non non lo sanno molti soprattutto nel lavoro pochi alcuni sì l'ho riferito per altri mi conoscono come tale e io sono come tale io quando divento questa persona che ti vedi di fronti sono questa persona anche dei fronti tu quando mi conosci come l'altra persona che mi conosco con loro sono quella persona cambia solo l'aspetto fisico ma il mio cuore il modo di essere sempre sarà lo stesso perché non non perdo insomma non perdo la mia linea di come persona come come quello che sono io ma come fai nella vita quotidiana gestire la tua doppia personalità senza non è una doppia personalità perché questo solamente per me è una la cosa che faccio al weekend ecco è una cosa che faccio al weekend una cosa che che è un esfogo ecco un modo di divertirmi che avevo scoperto creando questo personaggio come Gianna del resto faccio altre cose vado a un cinema vado a una mostra d'arte viaggio sto con la famiglia cioè mille cose non solo legato a questo ho capito in realtà non sei legato a nessuno dei due mondi ti godi tutto il meglio sì non ti poni limiti mi godo mi godo di essere di star bene con me stesso non di un prototipo neanche di un modo mi godo a me stesso sarò sempre la stessa persona perché non cambia la mia non cambia il mio modo di essere dimmi questo per favore qual è stato il momento più basso della tua vita il momento il momento più basso il momento più basso della mia vita forse finendo la scuola non sapevo in quel momento la scelta di fare però in quell'anno che mi hanno dato libero mi ha detto mia madre vedi tu cosa fai studi ti lascio così mi sono dato un po' a tutto divertirmi fino al tardi delle ore conoscere tanti tipi di gente buone anche cattive dal quale hai imparato alla vita a scegliere le persone poi quando tu ti metti in dei problemi è lì che dopo rifletti e dici no questa persona le faccio una bella croce una bella pietra sopra e abbiamo finito è così imparato anche il momento buio però non l'ho avuto frequente ti direi sinceramente oggi come oggi il momento buio della mia vita è stato nel 2016 quando ho perso mia madre è l'anno che prima abbiamo perso il fratello di mia madre è una ha stato vittima del cancro al cervello che non si poteva fare proprio nulla per lui al quale mia madre era molto legata molto presa di questo fratello che il quale l'ha portata dopo due mesi avere lei tre ictus e io sono andato fino in paese a stare lì tre mesi dietro a lei a curarla e avere un'aspettativa di che qualcosa poteva cambiare però poi dopo tutto questo tempo anche abbiamo perso un po' di tempo perché potevamo fare qualunque cosa per lei ma stando in un posto dove la medicina e anche i servizi non sono alla vanguardia come sono qua l'ho persa il 2016 e questo è stato il momento più buio per me perché al di là che ero legata a lei per molte cose volevo anche dargli quello che mi ha dato no farla godere e non ho potuto farlo e questa è una cosa che mi fa molto pensiero fino a oggi la penso anche se dopo che ho avuto la pandemia non sono più ritornata però sono sempre dietro alle cose che a lei mancano tutto quello che devo fare per lei lo faccio allora ti è mai capitato per esempio di cadere in depressione oppure crisi esistenziali depressione sì te l'ho detto quando ho perso mia madre però poi mi sono ripresa mi sono ripresa perché la vita deve continuare per tutti noi penso che mia madre alla fine quello che ho capito anche lei ha fatto il suo percorso quando lei deve andare a una buona fine di questo mondo non avrei una coscienza di qualcosa che non avrei fatto perché ho fatto di tutto per lei ma la depressione secondo me mi è venuto quando il primo momento di averla persa poi piano piano mi sono ripresa alla mia continualità alla luce di questo se potessi tornare indietro nel tempo cambieresti qualcosa? sì sì cambierai molto che cosa cambieresti? avrei lottato più in avere avrei avuto il mondo dei grandi studi per esempio il cervello è una macchina e forse io avuto solo una bicicletta avrei voluto avere di più io la mia vita la mia università è stata la mia vita sono stata didattica con quello che ho imparato nella vita avrei voluto studiare di più avere molto di imparare anche di dare credo questa è la cosa che mi avrei piaciuto qual è stato invece il momento più bello della tua vita? il momento più bello della mia vita? secondo me conoscere alla persona che oggi è a fianco a me avere passato alti bassi come tutte persone in tua relazione imparare con questa persona e direi che quello a me mi ha dato soddisfazione di essere felice di avere qualcosa di avere qualcosa che che molti non possiamo averli però una cosa sincera non una cosa premeditata non una cosa programmata non una cosa così per averla sia una cosa semplice è questo che le do più di valore e mi fa felice cosa mi puoi dire su questa persona che è stata a tuo fianco che tipo di persona è? è una persona con un carattere suo è una persona sa del suo anche è una persona definita con alti bassi ma che in questi anni che siamo stati insieme abbiamo fatto molte cose sempre insieme tante esperienze? esperienze sì ma è un uomo o è una donna? è un uomo mi viene da chiederti una sola domanda a questo punto una sola cos'è vita? vita? vita vita per me è fare qualunque cosa senza cioè la vita per me è da quando uno apri gli occhi e fa tutto ciò che gli piace quello è vita perché tu nella vita si fai le cose con piacere da quando ti alzi ti fai tutto ciò che devi fare sempre con la voglia di farlo vai avanti quello lo chiamo vita è qualunque cosa in te che è positivo quello per me è la vita poche parole bene a questo punto io non so più cosa chiederti sinceramente a meno che non vuoi raccontarmi qualche segreto che poi non sarà compreso nel video no 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 non ce l'ho se credi penso di averti raccontato un po' di tutto controllo Grazie.